Questa mattina è stata presentata l'iniziativa di sensibilizzazione per esercenti e commercianti relativa al risparmio energetico attenti alle porte. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'azione che vogliamo proporre di risparmio energetico, ma in questo momento di particolare crisi di approvvigionamento delle fonti di energia e anche crisi economica conseguente con l'aumento dei prezzi, ma anche un'iniziativa che ha una finalità ambientale molto importante, che è quella di ridurre le emissioni di inquinanti nell'atmosfera derivante dalla produzione di energia. Quindi il risparmio energetico è un modo diretto per ridurre l'inquinamento e noi pensiamo che in questo momento sia particolarmente importante ricordarlo e fare tutti assieme un'azione e condividere queste iniziative che possono anche essere comunicate ai cittadini e infatti noi proponiamo delle vetrofanie che hanno un logo che richiama proprio questa iniziativa che peraltro è stata organizzata a livello regionale da tutti gli assessorati all'ambiente delle città capoluogo e da Union Camera, infatti oggi rappresenta con noi anche la Camera di Commercio, oltre alle associazioni di categoria Commercio e Confesercenti.